Capitolo 40 Finalmente ci fu la nostra serata dedicata ai film. Mia madre, Susanna, Jeremiah e io guardammo i film di Hitchcock preferiti da Susanna in salotto con tutte le luci spente. Mia madre fece i popcorn nella grossa pentola di Ghisa e andò a comprare pepite di cioccolato, orsetti gommosi e caramelle mo. Susanna adorava le caramelle mo. Fu una serata classica, come ai vecchi tempi, eccetto per l'assenza di Steven e di Conrad che quella sera era di turno al lavoro. Verso la metà di Notorious l'amante perduta, il suo preferito, Susanna si addormentò. Mia madre le mise addosso una coperta e quando il film terminò sussurrò «Geremia, ci pensi tu a portare tua madre al piano di sopra?» Jeremiah annui e Susanna non si svegliò neppure quando lui la prese in braccio e salì le scale. La sollevò come fosse leggerissima, una piuma. Non lo avevo mai visto fare una cosa del genere, anche se avevamo quasi la stessa età. In quel momento mi parvi un adulto. Si alzò anche mia madre, stiracchiandosi. «Sono esausta. Vai a letto anche tu, belli?» «Non ancora, penso che prima mi metterò a dare una pulita qua», dissi. «Che brava ragazza», rispose lei facendomi l'occhiolino. E poi si diresse al piano di sopra. Iniziai a raccogliere gli involucri delle caramelle e qualche popcorn che era caduto sul tappeto. Jeremiah tornò giù mentre stavo rimettendo il film nella custodia. Si lasciò cadere sul divano. «Aspettiamo ad andare a dormire», disse guardandomi. «D'accordo, vuoi guardare un altro film?» «No, guardiamo un po' di tv». Prese il telecomando e iniziò a girare i canali a casaccio. «Che fine ha fatto Cam Cameron?» Feci un breve sospiro. «Non lo so, non ha più chiamato e io nemmeno. L'estate sta per finire, probabilmente non lo rivedrò più». Senza guardarmi, mi disse. «Vorresti rivederlo?» «Non lo so, non ne sono sicura. Forse sì, forse no». Jeremiah azzerò il volume della tv e a quel punto si girò a guardarmi. «Non credo che sia il tipo giusto per te». Aveva uno sguardo cupo, non lo avevo mai visto così cupo. Con una voce lieve risposi «Sì, lo penso anch'io». «Belly». Prese un respiro profondo e gonfiò le guance e poi lasciò uscire l'aria con una tale forza da far svolazzare i capelli sulla fronte. Sentì il cuore iniziare a battere. Stava per succedere qualcosa. Jeremiah stava per dirmi qualcosa che io non volevo sentire. Qualcosa che avrebbe cambiato tutto. Aprii la bocca per parlare, per interromperlo prima che dicesse qualcosa che non avrebbe potuto ritrattare. Ma lui scosse il capo. «Lascia che lo faccia». Fece un altro respiro profondo. «Tu sei da sempre la mia migliore amica. Adesso però c'è dell'altro. Ti considero più di un'amica». Proseguì accostandosi a me. «Sei migliore di qualsiasi altra ragazza che abbia mai conosciuto. E mi sei vicina. Lo sei sempre stata. Io posso contare su di te. E anche tu puoi contare su di me, lo sai». Annui. Lo sentivo parlare. Vedevo le sue labbra muoversi. Ma la mia mente lavorava in maniera frenetica. Si trattava di Jeremiah. Il mio amico del cuore. In pratica mio fratello. L'enormità della cosa mi toglieva il respiro. Non riuscivo quasi a guardarlo. Perché io... Io non lo vedevo allo stesso modo. Per me c'era soltanto una persona. E quella persona era Conrad. «So che tu sei sempre stata innamorata di Conrad. Ma ora ti è passata, giusto?» Aveva una tale speranza negli occhi che mi straziò a non rispondere nel modo in cui lui avrebbe voluto. «Io... non lo so», sussurrai. Inspirò a fondo, come faceva sempre quando era frustrato. «Ma perché? Lui non prova niente per te. Io sì!» Sentii che i miei occhi si stavano riempiendo di lacrime. Ma non sarebbe stato giusto. Non potevo piangere anche se Jeremiah aveva ragione. Conrad non provava niente per me. Mi dispiacque di non poter ricambiare Jeremiah. «Lo so. Vorrei tanto non essere più innamorata di lui e invece non è così. Lo amo ancora». Jeremiah si scostò da me. Non mi guardava. I suoi occhi guardavano ovunque, tranne i miei. «Finirà per ferirti», disse con voce spezzata. «Mi dispiace tantissimo. Ti prego non essere arrabbiato con me. non sopporterei che tu lo fossi». Sospirò. «Non sono arrabbiato con te, solo che...» «Non è giusto. È sempre Conrad il preferito». Poi si alzò e mi lasciò seduta là.